Il programma del centro-sinistra di Cremone è ancora fermo agli anni 90, come risulta dal comunicato congiunto emesso stamattina dal sindaco Gianluca Galimberti e dal presidente della provincia Davide Viola. Nel 98 il piano delle infrastrutture veniva condiviso da DS e Forza Italia e ancora si para di uscire dall'isolamento, migliorare la via Mantua e si tratti di autostrada regionale o di riqualificazione dell'ex statale, le linee ferroviarie, i ponti sul Po e l'intermodalità ferro, gomma e navigazione. Oggi Galimberti e Viola proclamano di sentirsi presi in giro come cittadini e come enti locali, mentre confermano l'inutilità degli incontri con la regione, Trenord, RFI e Ministero. I cremonesi devono quindi subire le decisioni calate dall'alto e gli inaccettabili balletti di responsabilità, benché Galimberti e Viola possano vantare la massima collaborazione con le imprese e le parti economiche. Gli obiettivi strategici cremonesi però non cambiano, anzi si adattano al peggioramento del quadro di riferimento. Lunedì 26 a Milano si ricomincia con l'incontro di Milano fra il sindaco, il presidente della provincia e il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, già deputato d'opposizione del territorio. Questione centrale di nuovo l'isolamento di Cremona, in tempi lunghi di chi deve spostarsi senza dimenticare il raddoppio della paolese, fermatosi a Spino Dadda alle soglie dell'area metropolitana. Per il nuovo ponte di Casal Maggiore sono in tanti pronti 500.000 euro stanziati dalla giunta regionale per la progettazione e le prime spese. Nessun progetto infrastrutturale cremonese però si è mai concluso, dai più contestati come il terzo ponte sul Po, ai più ecologici come il raddoppio delle linee ferroviarie, sette in provincia, che gli ambientalisti chiedono da decenni. Commenti e riflessioni si moltiplicano e Vittorio Principe, per Confcommercio, auspica la mobilitazione del territorio, che subisce una progressiva marginalizzazione, una beffa dopo le risorse e spese. Voce fuori dal coro quella di Dario Balotta, papabile assessore all'ambiente ai tempi dell'Ulivo, stroncato dai DS. La sua critica è dura, Cremona non ha meritato fiducia dopo aver sprecato gli investimenti per completare il canale navigabile.